Fury è un titolo molto impegnativo ed è caratterizzato solo da boss fight. Mentre i tripla generalmente puntano più a intrattenere e immergere in contesti ricchi di particolari e atmosfere coinvolgenti, gli indie si sforzano di mettere in piedi meccaniche originali o quantomeno stimolanti. Fury non innova un genere ma punta a proporvi una sfida fatta di sincronismo, attenzione e studio dei pattern d'attacco nemici. Siete dunque pronti ad accettarla? Impressioniamo un protagonista incatenato in una prigione futuristica, una struttura organizzata verticalmente secondo diversi satelliti. Il nostro carceriere che pare uscito da un'opera teatrale orientaleggiante, con un capo contraddistinto da alcune maschere, si diverte a infliggerci un'infinita e destenuante pena. La sofferente litania viene però interrotta da una figura misteriosa, dalla testa a forma di coniglio. Costui ci mette nelle condizioni di poter combattere per ottenere la libertà. L'unico modo di fuggire è però quello di sconfiggere il nostro carceriere, ma per giungere all'atto finale è necessario prima affrontare tutti i guardiani che animano la prigione. Una danza continua di boss fight interrotta solo da brevi momenti di pausa, a collegare i vari luoghi degli scontri, in cui il misterioso salvatore ci svelerà di volta in volta parte delle vicende. Si tratta di eliminare in sequenza una serie di boss, ognuno di essi è caratterizzato da più fasi di combattimento, in cui l'avversario muta velocità, modalità d'attacco e armi. Generalmente l'ultima prova prevede una sezione battle hell, tipica dei titoli da sala giochi anni 90. Una sfida tosta che punta al sincronismo e al timing difendenti, ma non ci sono profondi combo da apprendere. Due sono le armi in nostro possesso, una pistola per gli attacchi da lontano, utile per entebolire le difese avversarie, e una katana per gli attacchi ravvicinati. Il combat system ci mette a disposizione un attacco base, uno potente, una parata, un contrattacco e una schivata con un brevissimo lasso temporale di invulnerabilità. Il modus operandi previsto per ogni fase generalmente si basa su tre macromomenti. Nei primi due si è libera di muoversi sfruttando tutta la mappa dell'arena, con attacchi dalla distanza, successivamente eseguiti da attacchi ravvicinati all'arma bianca. La parte finale invece è più frenetica ed è gestita in un'area decisamente ristretta, in cui schivare e parare diventa fondamentale per non perire. Il ripristino della salute è totale solo dopo aver terminato la fase dello scontro in atto. Il recupero parziale invece si materializza con una parata perfetta oppure attraverso l'aggancio di globi verdi sul terreno di gioco. Inizialmente possiamo uscire solo tra due livelli di difficoltà, dopo aver completato la prima run si sbloccherà poi un ulteriore modalità. Selezionando easy termineremo presto l'avventura poiché ci imbatteremo in soli cinque boss, caratterizzati anche da combattimenti con poche fasi. Rogue Like e Souls Like stanno vivendo una seconda giovinezza e questa stessa anima è presente anche in Fury. Non ci sono checkpoint tra una fase e l'altra, se si fallisce si riparte da capo con il boss che ci ha mortalmente ferito. I personaggi di Fury sono stati disegnati dall'autore di Afro Samurai, titolo pubblicato per PS3 e Xbox 360. Tra una boss fight e l'altra il nostro personaggio cammina attraverso scenari spesso ispirati, ma non realizzati sempre benissimo, sono infatti un po' approssimativi. La grafica pencil shading e predilige colori accesi e tinte al neon. Una estetica che ci riporta alla mente le atmosfere anni 80. Il titolo gira a 60 frame granitici, sono presenti alcuni glitch grafici minori e del leggerissimo tearing durante le fasi di intermezzo. Le musiche sono ottime e l'effettistica è più che sufficiente. La storia non cattura per originalità, mentre l'ambientazione e il contesto sono interessanti. Non è un titolo per tutti. Se non amate il trial ed error o affrontare solo le boss fight, probabilmente questo titolo non vi garberà. Se invece cercate qualcosa di brevemente intenso, se non vi dà noia morire continuamente e ripetere intere sezioni per migliorare i vostri attacchi, allora dategli una chance e non ve ne pentirete. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.